Mino Borracino, Assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico. Parliamo di questa regionale 8, un volano per varie ragioni, innanzitutto per lo sviluppo turistico del nostro territorio. Facciamo un po' il punto della situazione, a che punto siamo, numerosi gli incontri anche con le organizzazioni di categoria. Ecco, a che punto siamo? Allora, innanzitutto la notizia, la regionale 8 si fa. Rispetto a notizie, la regionale 8 sarà revocata, non sarà finanziata e finanziata parzialmente. La regionale 8 si fa e c'è l'impegno nel tavolo con i sindaci, con le associazioni datoriali, con il Presidente della provincia, con l'Agenzia Strategica Regionale Asset, insieme al collega alle opere infrastrutturali Gianni Giannini, di provare ad appaltare entro il 2019 l'opera, entro un anno. Parliamo di 193 milioni di euro completamente a disposizione. Adesso c'è soltanto da verificare alcuni aspetti rispetto al progetto, che dovranno essere superate per alcune osservazioni che sono state fatte dal Comitato Via, che la provincia, sguarnita dalla pessima riforma del Rio che ha rovinato le province, sarà affiancata dagli uffici regionali dell'Agenzia Strategica Asset per superare alcuni ostacoli condivisi con i sindaci e con il Presidente della provincia per arrivare alla definizione entro il 2019 e quindi mettere in appalto i 193 milioni. Parliamo di un'opera di 54 chilometri, interamente finanziata con 193 milioni di euro, a doppia corsia con lo spartitraffico sino allo svincolo per Pulsano e dopo Pulsano fino ad Avetrana con una carreggiata di 10,50 metri. Quindi una strada comoda, veloce, che consentirà non soltanto ai turisti, ma anche al viaggio delle merci, al transito delle merci, quindi degli operatori industriali che insistono nelle varie zone industriali dei vari comuni, non soltanto Pulsano, ma anche Leporano, anche Faggiano, anche Lizzano, Torricella, Maruggia, Avetrana, Manduria e le isole amministrative di Taranto, di poter avere una strada per far utilizzare ai mezzi di approvvigionamento e mezzi di trasporto per far arrivare velocemente le merci anche in quelle zone industriali. Grazie a tutti.